buonasera e benvenuti a una nuova puntata di decore podcast è un grandissimo piacere e un onore avere in mezzo a noi max gazzè benvenuto ora grazie grazie piacere grazie mille non nascondiamo con danilo che ci emoziona un po buonasera saluto pure io altrimenti sembro maleducato buonasera a tutti gli vuoi spiegare il tuo tasto e la dinamica del tasto che subitamente iniziamo subito sì allora io farò delle domande max lo spiego anche a te sono domande molto importanti e vengono annunciate da questo tasto e vorrei che ogni volta questo tasto suona il pubblico facesse un applauso sono molto autoriferito in questo quindi facciamo una prova questo applauso tipo l'applauso finto registrato che applauso io vedo io prendo l'applauso prima della domanda si crea entusiasmo eccezionale straordinaria se vuoi puoi suonarlo anche di queste cose funziona lui è musicista l'ha suonato meglio fatto proprio suono ci sono tutti i presupposti per iniziare una nuova puntata di decore dal riverside di roma siamo a piazza sempione siamo in zona monte sacro e questa sera cercheremo di tirare fuori da max dei racconti decore ma dopo la cena che abbiamo fatto anche abbastanza abbondante decore la cena mangiato decore solitamente iniziamo con la definizione di wikipedia l'incipit che molto spesso è sbagliato vediamo se nel suo caso è giusto se c'è qualcosa da correggere max gazzè all'anagrafe massimiliano gazzè roma 6 luglio del 67 è un cantautore bassista attore e pittore italiano fino a qua è corretto nel senso che sono è strana definizione di pittore ma in realtà io dipingo ho dipinto per tanti anni anzi i miei primi concerti i miei primi soldi che guadagnavo facendo musica lo utilizzavo per poter comprare tele e colori perché questo è vero poi dopo la maggior parte dei quadri che che ho dipinto negli anni sono stati persi perché ho cambiato casa poi alcuni stanno in francia altri sono quindi non so sono spariti però ne ho fatti tanti di quadri e ho avuto anche l'opportunità di quindi qualcuno li possiede a tua insaputa si tanti sono stati sono firmati sono firmati si sono firmati dietro perché poi su spesso si quadri poi dipende fatto vari periodi usavo tecniche miste acrilici con stoffe con spaghi e io ho conosciuto la mia compagna mia moglie mia moglie da tanti anni che lei lavorava con mario schifano io sono collaborato con schifano un periodo in cui avevo tutte le sue polaroid e lui mi chiedeva di fare le foto ai televisore e poi lui con il proiettore ci dipingeva sopra quindi tutto periodo in cui anzi primo primo disco del 98 poi magari ci torniamo e lui doveva fare la copertina del disco mario schifano poi è venuto a mancare però fatto sta che la pittura è sempre stata una mia grande passione ancora dipingi di meno perché non ho più uno spazio dove dipingere per cui dipingevo con varie tecniche smalti acrilici e anche tele molto grandi per cui lo spazio in quel caso è importante poi non dipingevo verticale ma direttamente per terra quindi mettendo la tela la tavola qualunque cosa appunto per terra e imbrattava un po tutto un po la pollock sì anche anche però diciamo un misto di tecniche poi mettevo del nastro di carta per definire quali erano i limiti facevo le riquadre con già che già avevano il passepartout venivano già al bordo perché le delignavo con questo scotch carta che mettevo sia nel bordo del quadro che all'interno del quadro per creare delle linee in cui quel posto non era dipinto vabbè poi insomma un giorno usciranno fuori questi quadri riscopriremo anche perché neanche me li ricordo tutti torna scusa ti ho interrotto però no no questo era un ricordo decore quindi è giusto farlo la vittura è decore la vittura è molto decore quindi ci sta come inizio ma tu da che città e da che zona della città vieni c'è la tua infanzia dove l'hai passata allora io sono cresciuto sono nato a via nato sono nato all'ospedale perché Bruno che nasce devo andare all'ospedale capito vabbè sono nato all'ospedale si chiama Cristo Re e sono nato e ho vissuto da bambino a via baldo degli ubaldi al numero 318 c'è stato qui una sorta di ovazione per via baldo degli ubaldi è diventata famosa per il cinghiale il famoso video del cinghiale a via baldo degli ubaldi c'è un video è diventato virale sui social che c'era in cinghiale in cui corre questo cinghiale contro mano in discesa o in salita era in discesa in discesa la persona che lo filmava stava diciamo sulla corsia opposta io sono cresciuto e pratica lì devo dire che poi è stata un po una fortuna perché nessuna della mia famiglia faceva musica però lì c'era un negozio famoso si chiama discoland poi c'è una farmacia grossa una farmacia adesso c'è una farmacia grossa a due piani esatto a vicino piazza il nero e lì c'era discoland dove ho preso il mio primo basso all'età di 13 anni primo basso a 13 anni che erano un basso che adesso chiaramente mio papà poverino non sapeva che il basso aveva bisogno di un amplificatore un basso elettrico per cui preso il basso ma senza amplificatore per cui io per suonare sto cazzo del basso non sapevo con le corde lisce un basso che era un'imitazione fender telecaster chitarra quindi era un basso si chiama morris basso morris imitazione fender telecaster che io per suonare dovevo mettere la paletta quindi la parte estrema sull'armadio attaccata all'armadio faceva un po di conduzione di vibrazione faceva un po da cassa armonica poi dopo sono andato da biscossi a via della giuliana a prendere degli articoli in scala di montaggio quindi prendevo ho preso un alto parlamento un woofer rcf un fustino del dash ricordate il dash aveva tondo esatto preso il fustino del dash ho messo l'alto parlamento secondo me non vorrei il dig sun era rotondo no no il dash sono le perle di danilo che comunque ci tiene non diciamo cose sbagliate sui detersivi perché per me per danilo è una cosa importante tanto non ce ne frega un cazzo della promozione la pubblicità occulta no 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 la dig sun è fallita è fallita non lo so ci potrebbero cuore l'appare per questo allora iniziamo bene dai fatto sta che questo fustino del detersivo va bene ok se volete tagliare la parte sponsor siamo generici dai ecco questa cosa quindi ci ho messo un alto parlante un speaker insomma un woofer con un amplificatore tipo 4 watt così e lo mettevo una specie di intercapedine insomma un posto e lo mettevo lì che faceva più risonanza quindi ho avuto il mio primo amplificatore è stato un fustino di detersivi il macgyver della musica sì ma perché mi piaceva insomma distorceva un po però ho cominciato poi a scoprire che il basso distorto diciamo nasceva prima dal mio fustino del dash col woofer e poi dal che cosa perché il basso chi avevi visto cioè perché si è subito il basso perché ascoltavo io mi ricordo primo uno dei primi brani che ascoltato col basso era money dei pink floyd poi tanti altri musica scolta con quel periodo stranamente la musica di bob marley per cui una delle linee di basso che più mi piaceva che poi sono sempre paradossalmente strani perché erano bassi doppiati dalla chitarra quindi chitarra e bassa che facevano la stessa linea stand up for your right di bob marley c'è una linea di basso bellissima e mi ricorda quella è stata una delle prime cose che ho imparato quella perché inizialmente fare money era troppo difficile invece quella di bob marley faceva quando prende il basso in mano oggi ti viene mai da rifarla per automatismo magari soundcheck magari ma sì sì quella è una linea bellissima poi le reggae in generale delle linee di basso che non erano erano in contrapunto con il resto dell'armonia per cui molto 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 nella musica che sentiamo nelle canzoni il basso e crea genera la fondamentale dell'accorto per cui tutti fanno un bel la maggiore e il basso mette il la pieno così invece nella musica reggae reggae insomma la musica giamaicana peter tosh bob marley il basso è in contrapunto così ecco perché mi piaceva molto la musica ska inglese quindi batmaners selectors specials tutte queste band qua che ascoltavo c'era una cassetta che avevo preso nell'ottanta si chiama questo però già più in là si chiama dance crazy c'è un altro brano dei police walking on the moon walking on the moon pure c'è una linea di basso che era doppiata dalla chitarra però era il basso comunque il basso era quella parte dell'armonia musicale che più mi suscitava una come dire una reazione dei core ecco e quindi ti immaginiamo a via baldo degli ubaldi che suoni questi fustini nessuno si lamentava perché il volume era contenuto ma suonava la batteria quella zona lì per te è una zona tuttora dei core che quando ci passi c'hai un attimo quel sì 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 in realtà sì comunque è tutt'oggi casa di mia mamma per cui anche se mia mamma non abita più là quando passo di fronte casa dove sono cresciuto poi ho vissuto là fino all'età di 13 anni perché poi mi sono trasferito in belgio con mio padre per cui ho avvitato con mio padre aveva un incarico istituzionale all'interno dell'establishment della comunità europea e ti richiamo establish perché di fatto non lo era e per cui sono andato a vivere la ho fatto la scuola europea e tutto lì poi ho mischiato tutto adesso mi ritrovo a essere un po' dislessico un po' io ho imparato veramente ho imparato tre lingue contemporaneamente perché a scuola europea imparavo inglese francese italiano contemporaneamente e quindi ogni tanto mi ritrovo anche oggi a parte un po di dislessia generale un po di disattenzione a far confusione con le lingue intanto sbaglio però un problema dalla radice perché ho imparato le lingue dall'età di dall'ottanta quindi quanti anni avevo nell'ottanta 13 anni sono andato a vivere a bruxelles perché ho passato dieci anni a bruxelles e quello qua mi ha rovinato definitivamente ti posso fare la domanda al contrario hai vissuto dieci anni a bruxelles cosa ti manca a roma di bruxelles mi manca un po tutta la fase dell'adolescenza senz'altro bruxelles è una cittadina molto piccola e a parte la gran pass la gran classe e il mene che pisse non è che puoi vedere più di tanto insomma ci sono è una città che va scoperta no per cui da adolescente da ragazzo una volta che entri in confidenza con quella città e con tutte le persone che frequentavo che erano veramente inglesi francesi olandesi belgi italiani per cui si andava tutti insieme facevamo il tour delle bettole di beoni ci sono parecchie baretti che hanno magari mille tipi di birre diverse c'è la birra più buona d'europa diciamo ma c'è proprio la cultura della birra oltre che quella della musica magari ne parliamo più là però ecco il fatto di conoscere tutti gli angoli di bruxelles è come stare a san lorenzo e conoscere tutti gli angoli di san lorenzo o stare a trastevere o stare qui in una cittadina piccola però il fatto di aver vissuto là diciamo una città molto meno dispersiva rispetto a Roma un po' mi manca quella condizione là il fatto di uscire prendere la metropolitana e in poco tempo stai da una parte e dall'altra della città e quindi ci sono degli appuntamenti fissi a decore cioè delle domande da cui non si scappa una di queste ti mascheravano da piccolo a carnevale? credo una volta quella volta ti ricordi da cosa ti hanno mascherato e se sì io credo dai a quell'epoca ci si mascherava da zorro e da zorro non ce l'hai però un ricordo al momento zorro ci abbiamo avuto tutti al momento zorro sì come anche io sono un po' così insomma adesso ho anche i suoi figli a carnevale insieme ci sono le mamme che in qualche modo interagiscono col travestimento perché ci è capitato spesso di avere ospiti traumatizzati da maschere assurde messe dai genitori non è che caldo la maschera di spiderman con l'imbottitura esatto che due palle tutti traumi no no infatti noi ne parliamo in chiave totalmente negativa mi sono mascherato in una festa di amici ho preso proprio il costume dell'uomo di latta tin man ed era un costume ma di quelli proprio orrendi presi presi quelli che durano una sera perché poi si rompono insomma però andando avanti tantissimo ed è legato ad una delle nostre ultime puntate che quando uscirà questa puntata sarà già uscita che quella con i manetti bros legati al tema della maschera c'è un discorso tra te diabolic perché diabolic è una maschera si si ho interpretato in questo film diabolic chi sei ho interpretato diabolic e proprio devo dire nella questa interpretazione sapendo di essere una maschera quindi cioè lui era mascherato da te si cioè questa è una cosa che dice tu puoi dire no a me non mi hanno mascherato però c'è chi si è mascherato da me cioè diabolic nell'ultimo film dei manetti è mascherato da Max Gazzè esattamente però c'è la scena in cui appaio dove si mette la maschera e con questa e quindi io faccio un piccolo gioco per aggiustare la faccia di gomma che è delicato non è una cosa evidente però quando l'ho visto il film la proiezione mi ha fatto molto ridere poi tutte le mie pose erano plastiche totalmente inespressione certo ho fatto tutte le scene privo di espressione non c'era niente era proprio così tutte le scene qualsiasi cosa faceva era la stessa faccia proprio per essere ancora più di gomma insomma bella comunque è stata una bella esperienza devo dire sono stati il film mi è piaciuto molto a me questo film perché mi è piaciuto la la narrazione il fatto di svelare comunque dell'ultimo capitolo per cui è anche girato molto bene bellissima la fotografia questo quindi quando l'ho visto mi ha fatto molto piacere quindi andatevi a recuperare la puntata dei manetti bros ospiti a Decore ti faccio una domanda che rapporto c'hai te con la città di Roma restiamo un attimo in questa prima parte su Roma anche perché questo podcast si chiama Decore e quindi c'è una notevole componente può essere anche Decore anche Decore assolutamente però diventa britannica io e Danilo siamo più terra terra sì più Decore Decore ma che rapporto c'hai con Roma nel senso Roma la soffri sei contento ci hai fatto pace ci ho fatto no non l'ho mai sofferta sei sereno mi è sempre mancato ovvio avendo vissuto tanti anni all'estero e in qualche modo cercavo in tutti i modi di tornare e riaggrapparmi a quello che era sano soprattutto anche con la musica quindi in qualche modo con l'unica cosa che mi dava un collegamento con con l'Italia con erano le canzoni dei cantautori e questo che mi ha fatto appassionare poi alla lingua italiana la scrittura alle assonanze alle consonanze alle rime tutto quello che era la la bellezza del suono della parola in italiano fatto sta che sto tornando invece alla città e io ho vissuto un periodo fuori Roma in campagna e adesso invece vivo a Monteverde vecchio fino a Porta San Pancrazio e devo dire che la bellezza di Roma che sì è vero che rispetto a tante altre città è come se fosse suddivisa in zone proprio molto certo sono tante città nella città sono tante città messe insieme Monteverde è un posto che mi piace molto e in questo momento ci sto molto bene mi sento molto a mio agio ed è proprio un luogo vero capito dove incontri le persone fai colazione al bar parli vai in giro vai a fare la spesa cioè mi piace è una è un luogo mi piace molto lo dico poi io conosco quello non è che conosco tutte le zone però secondo me ci sono alcune zone che hanno delle energie particolari senti restando su Roma la domanda più temuta di Decore Podcast è questa ti svegli domani e sei sindaco di Roma non ti puoi dimettere qual è la prima cosa che fai? guarda ieri ho visto proprio per caso mi è capitato il video del sindaco di Roma che stava in un cantiere per riparare tutte le buche e diceva non so delle romanelle dice il sindaco ha detto lui ha specificato questa non è una romanella stiamo rifacendo 15 km e altri 15 km e ha specificato anche la profondità del manto stradale quindi 9 cm traduciamo magari il che vianese ascoltavo tutti cos'è la romanella? la romanella è quando ha un po' la cazzo dei cani una cosa raffazzonata una cosa sistemata così quando metti le pratica sulle buche ci metti la toppa ci metti la toppa che alla prima pioggia va via un secondo dopo è e noi che andiamo col motorino e con la moto sappiamo quanto rompe le palle quanto è profonda e anche perché ogni volta che piove ti ritrovi la pozzanghera e non sai quanto è profonda ho già spaccato due cerchioni della moto così capito? e quindi la romanella è quando anziché rifare tutto il manto stradale che come diceva il sindaco è 9 cm quindi lui stava lì con la giacchetta arancione e devo dire è stato molto... quindi sicuramente rimettere a posto un po' le strade mi sembra... cosa fa Alessandro? Alessandro... ho degli appunti Alessandro c'ha la Bibbia, non c'ha gli appunti però mi sembra una cosa che condividete anche voi questo fatto di rifare alcune strade magari non so se tutti voi vanno col motorino ma chi va in motorino è un problema ma anche chi va in macchina perché i cerchioni si spaccano adesso ad esempio a Roma non fanno più le assicurazioni per i pneumatici perché alle compagnie assicurative non conveniva più ma io c'ho una domanda... e quindi se buchi una gomma te la... si la ripari la ripari si ci metti il fast io ho provato... una volta mi ho detto che puoi fare la denuncia al comune chiamando i vigili sono stato fino alle 4 di notte a aspettare i vigili non sono mai venuti quindi... perché avevo rotto anche un fanale ah... oltre alla... alla gomma pure... vabbè... come ho fatto? è presa forte ah che miseria però insomma... questa è una cosa... la domanda che avevo da farti quella da pulsante è una domanda che ogni tanto ripropongo una domanda religiosa sulla... sulla religione secondo te perché il prete durante la messa dice mangiate e bevetene tutti e poi beve solo lui non so se... ah ecco... e lo fa sempre perché tu sei lì e dici vabbè... sai... c'è lo scambio della comunione è totale mentre... diciamo che... il vino no la prima volta che sono andato... il mio papà era molto religioso quindi mi portava in chiesa la domenica e io... siccome mi portava che era alle 11 così c'era una certa... c'era una certa fama che era il bambino e quindi non vedevo l'ora del momento della comunione per mangiare l'ostia perché comunque un po' te... come te mangi un pezzo di pane insomma... era uno stoppino vedi quanto sono religioso che aveva questo sapore e si avvicinava molto al colo del gerardo ma spariva subito però spariva subito spariva, finito quindi niente beve solo lui questo è... forse è il leader religioso eravamo a cena e lui così ci diceva che passavi le giornate con Paolo Villaggio con Fellini insomma è una robetta te volevo raccontare qualcosa di mio ma non è... si è vergognato da dire è stata una coincidenza e ci ha raccontato questa aneddota di Paolo Villaggio a cena di quello che faceva a me è piaciuto molto allora io si frequentavo quando sono tornato in Italia nel 91 92 insomma sono tornato e ho conosciuto questa ragazza è stata la mia compagna per qualche anno è un'attrice e ha fatto un film sia con Fellini si chiama L'intervista e ha fatto questo film di Mario Monicelli con i cari fottutissimi amici e siamo stati... sono stato con lei in Toscana a Poggi Bonzi Murlo tutti questi posti e quindi ho avuto modo di frequentare Villaggio insomma c'era nato un bel feeling per cui... però la prima sera che ci siamo conosciuti eravamo... c'era l'aiuto regista c'era Mario Monicelli e davvero davanti a me c'era Paolo Villaggio e quindi senza conoscere Paolo Villaggio io ero un ragazzetto quanto è? 93 quanti anni avevo? vabbè insomma matematica siamo scarsi 67 67 93 20 26 25 fatto sta che a un certo punto io così c'era Paolo Villaggio a un certo punto lui fa lui non ordinava nulla per sé però leggendo il menù fa tu prende il risotto alle cipolline qua prende il risotto va bene? va bene? quindi nel momento in cui ordinava le cose per gli altri sì perché lui doveva assaggiare quello che lui non mangiava quindi lui no ma ha un rapporto particolare col cibo insomma fatto sta che non ordinava però nel momento in cui è arrivato il risotto alle cipolline Villaggio prende il cucchiaio prima ancora che il cameriere l'ha posato per terra e dice questo me lo mangio io ma con l'accento genovese non con l'accento di Fantoz quella diciamo la il fare shakespeariano di Fantoz come dice in genovese questo me lo mangio io capito? qualche genovese qua qualche genovese no no insomma prende questo cucchiaio di risotto abbondante e se lo infila in gola in pratica a 2200 gradi ed è america praticamente la scena quando si arrotola la lingua era il pomodorino a riso temperatura esterna a 3 gradi temperatura in terra una palla di fuoco a 18.000 gradi insomma questo era praticamente lui ha fatto questa cosa in diretta davanti a me quindi ha preso questo cucchiaio l'ha ingoiato ha preso il salviettino e ha fatto come si fa? ha detto come si fa? e io a quel punto ero sotto il tavolo a ridere perché non puoi come fai a non ridere? come si fa? sputando il coso sul tovagliolo e io non ho mai capito se volesse dire come si fa a non accorgersi che è così caldo oppure come si fa a cucinare una cosa a portare perché lui se la prendeva anche con gli altri capito? quindi se l'è presa col cameriere dice come fai a portarmi una cosa così calda? per quanto riguarda Fellini è un'altra storia però come adesso la raccontiamo Fellini è stato pure un incontro molto bello senti che effetto ti fa l'idea di suonare al Circo Massimo? l'effetto ci pensi un po' a sta cosa nel senso ne hai fatte tantissime di cose enormi c'è una carriera incredibile però sta cosa del Circo Massimo un po' te stuzzica sì certo perché io penso che da romano è un po' altisonante è una cosa un po' sì perché per chi non lo sapesse possiamo dirlo alla villaggio il Circo Massimo è un po' così però alla fine quello che faremo con Nicolo e Daniele al Circo Massimo noi siamo partiti veramente con l'idea di fare una festa di festeggiare i dieci anni di quel disco che è stato quindi non vogliamo non vogliamo festeggiare solo come auto celebrazione il disco ma anche il fatto di dieci anni da questa in questo incontro da questo ritrovarsi insieme perché noi ci conosciamo da tanti anni però in tanti anni non abbiamo fatto niente realmente insieme finché dieci anni fa ci siamo messi a casa di Daniele a Freggene a cominciare a vederci per suonare non è che abbiamo fatto per preparare chissà che cosa ci siamo fatti un viaggio in Sud Sudan siamo andati insieme abbiamo cercato di capire a che punto eravamo noi come persone abbiamo capito che potevamo fare qualcosa insieme e quindi questa questa collaborazione che abbiamo fatto del padrone della festa è stata un'esperienza bellissima e noi volevamo festeggiare questa cosa ma veramente tra di noi facendo un concerto da qualche parte sul cucussolo di una montagna una cosa poi alla fine siamo uscita fuori l'idea di farla Circo Massimo ovviamente Nicolo è stato il primo a dire no non lo vogliamo anche Nicolo poi alla fine ci siamo convinti che potevamo ampliare la festa e festeggiare non solo noi ma anche tante persone che vorrebbero festeggiare non solo il disco ma anche questa 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 diciamo festa generazionale in qualche modo non vedo l'ora di farlo guarda onestamente con tutte le complicazioni perché è un concerto unico per cui non è che abbiamo il tempo di rodarlo non facciamo un tour è un unico concerto dobbiamo farlo bene e noi non vediamo l'ora di venirvi ad ascoltare tra l'altro quando ci è venuto a trovare Daniele qui ancora non era uscita la notizia del Circo Massimo e ci diceva restava sul vago faremo qualcosa forse però si percepiva che c'era sotto una cosa mi sa che Daniele è venuto il giorno stesso in cui ci siamo visti per decidere di questa cosa esatto che mi ricordo doveva andare qui a fare il podcast assolutamente non poteva dire niente non poteva dire niente ma nemmeno a noi fuori dai microfoni ha detto però qualcosa faremo c'era quel sorrisetto un po' sornione che lasciava intendere una cosa molto bella che poi è quella che sarà senti allora io ho un tuo virgolettato che chissà se è giusto come wikipedia però dici delle cose molto interessanti e molto curiosi vediamo se sono vere da dove l'hai preso non c'ho la fonte non me lo ricordo mi sono messo oggi pomeriggio vediamo vediamo che c'è dice per tanti anni ho vissuto una vita parallela ero pilota di macchine da corsa e musicista questa è una cosa che hai detto più volte però è una cosa pure molto curiosa molto interessante sono stato pilota ho fatto contemporaneamente insieme alla musica anche cominciato da bambino appunto a guidare go kart e poi ho fatto varie categorie formula ho fatto formula 3000 ho fatto pure un anno l'esperienza facevo il road show l'esibizione con la formula 1 la r25 di agosto fisichè l'ho fatto per un anno con l'audatore del team Renault formula 1 poi dopo ho fatto anche con campionati gti ho fatto un bel po' di cose quante vite hai avuto abbastanza poi dici la pittura è un'altra passione ne abbiamo parlato ho abbandonato e ripreso tante volte e la fotografia subacquea si la fotografia subacquea ultimamente diciamo vado in giro per il mondo intanto mi concedo sono stato in Indonesia Filippine Madagascar Maldive a fare delle spedizioni fotografiche l'ho fatta in Indonesia qualche tempo fa con tutti i fotografi con national geographic faccio delle foto molto belle con attrezzature importanti quindi non vado con la con la go pro insomma vado con tutta una serie di attrezzature e ho un archivio di più di 5.000 foto ma la cosa che mi non ho ancora pubblicato e vorrò fare un libro di fotografia ho fotografato dei posti meravigliosi dei luoghi veramente che impensabili come stare a Narnia ma che profondità la profondità dipende il soggetto da fotografare diciamo normalmente si va con con varie miscele fai con con la percentuale di ossigeno più alta se stai entro i 20 metri 30 metri se fai più a fondo che c'hai magari oltre i 60 devi utilizzare degli altri per io sono molto esperto un esperto subacqueo per cui ho dei brevetti per fare anche le immersioni profonde cosa che però non serve che non deve andare a fare le foto dei relitti la maggior parte delle barriere coralline sono comunque entro i 30 metri di profondità se no 40 metri ma oltre poi diventa un problema perché devi farle da compressione vabbè tornando al discorso della fotografia ho fatto tante foto molto belle per fortuna perché sono capitato in posti e ho fotografato ho testimoniato attraverso queste fotografie dei posti incredibili però la fotografia subacquea implica un gran lavoro di post produzione per togliere parecchie perché tu usi flash sott'acqua non puoi fotografare nulla senza dei flash molto potenti e questi flash spesso possono creare delle riflessioni magari granelli di sabbia corpuscoli e quindi devi passare ogni foto ha bisogno di come dire di post produzione che vuol dire pulirla e questo è un lavoro se per ogni foto ci metti uno due giorni almeno calco ne ho 5.000 non so quanti giorni quindi adesso ultimamente sto esportando cioè dal programma dove ho tutte queste foto le foto quelle che mi piacciono di più senza fare post produzione quindi così come sono tanto per avere un archivio di foto e le lascerò così sporche così posso dare e poi quando deciderò di fare un libro magari sceglierò ho 200 di queste foto e pubblicherò un libro un libro di foto subacquee ti ricordi un momento particolarmente emozionante sott'acqua cioè in cui ho avuto quel brivido poi noi lo chiamiamo momento decore però è ci capita spesso di fare tante esperienze a volte senza una ragione ben specifica ci sono delle esperienze che ci danno una scossetta allora ci sono ci sono delle esperienze subacquee puoi trovarti di fronte degli scenari incredibili come quelli che mi sono ritrovato in questo posto sono stato un mese in barca ma vuol dire un mese partendo da Sorong a Rajan Pat quindi tutta la papua nuova papua occidentale un mese in una barca senza mai mettere i piedi a terra in pratica solo sulla barca posti che raggiungi dopo una settimana di navigazione e scopri dei luoghi che nessuno ha visto prima totalmente incontaminati io ho scoperto delle ho delle immagini di quei posti ho fotografato che sono non so parliamo di Pollock di Kandinsky sono dei quadri di coralli gorgonie di colori assurdi di arcobaleni di pesci ho delle foto dove a un certo punto c'è un'esplosione ho delle cose incredibili ma che cos'è questo? sembra un posto molto bello quello è stato un momento in cui mi sono veramente emozionato ma dove sto? in che mondo sono capitato? è ancora la terra questa? altre volte invece mi è capitato di fare delle foto di immergermi insieme c'erano tre squali balena immagina squalo balena 10-12 metri di squalo e tu stavi lì con questa macchina fotografica cercando di evitare quindi è come una tramvata come se c'è uno squalo balena addosso non è che si ferma e ti schiva è tipo i cinghiali tornando va dritto quello va avanti se non ti scansi ti investe per cui tu immagina c'erano tre io stavo lì ho un centinaio di foto di questi squali alcune foto di queste due squali che si intrecciano quello che sta in superficie e quello con la bocca aperta che sta lì che ho dovuto fare la foto poi scappare via di corsa altrimenti ti ingoia tipo Pinocchio quella balena capito? mi trovavo nella pancia con il geppetto dentro alla pancia della squalo balena quindi alla fine è stata quella pure un'esperienza e tutt'oggi ricordo l'emozione di quella di quella giornata è stata incredibile trovarmi con questi squali balena e stare poi mentre la maggior parte della gente quando vede uno squalo scappa io se vede uno squalo squalo grigio l'ho visto anche di recente lo rincorro per farci la foto e spiazzi lo squalo perchè lo dici lo spiazzo perchè lo scappa no ma lo squalo in realtà non attacca squali grigi no ci sono alcuni squali che attaccano c'è lo squalo toro per esempio colpa di spilberg lo squalo in realtà se tu sei sott'acqua non ti vede lo squalo ti attacca perchè ti confonde per una foca perchè pensa che sia una foca capito per cui i surfisti perchè sopra siamo sul pelo dell'acqua oppure lo squalo toro perchè magari va nelle acque dove c'è più ossigeno e mordicchia per vedere cos'è cioè ti mangia una gamba per dire che è sta cosa e ti mangia non lo fa apposto ti assaggia quando hai degli squali intorno pratica la cosa che sembra facile ma in realtà quella cosa che si fa non dai mai lo spalle allo squalo lo squalo aspetta che arriva poi ti metti a modi uomo di vitruvio Leonardo da Vinci capito? ti metti così insegnate questa cosa lui capisce che non sei io vado a focene quindi il problema e poi che succede? quando lo squalo arriva pratica lui arriva tu con la mano vai lì gli metti la mano sulla testa e così fai tipo il toro tipo terreno manca il mantello rosso devi fare tipo toro tipo corrida nel frattempo però ti sei cagato sotto tre volte cioè mentre fai sta cosa se ti caghi sotto è un problema perché poi ti mangia capito? no in realtà ecco cioè loro sentono molto veramente la scorsa se hai una una ferita e qualsiasi cosa si attiva dei ricettori dello squalo ti vede come una preda perché però non fa parte cioè l'uomo non fa parte della catena alimentare dello squalo ma è tanto bello fai foto al tramonto infatti fai un impegno sono belli però poi fare quelle foto là ecco come diceva il pioniere della subacquea Jacques Cousteau Jacques Cousteau diceva una cosa molto importante sulla fotografia subacquea siccome è un mondo che non tutti hanno la possibilità di vedere diventa responsabilità del subacqueo testimoniare quello che sta osservando come quello che mi è capitato anche a me ma anche facendo delle foto all'epoca adesso abbiamo le macchine digitali dove vedi all'epoca avevano si immergevano in posti assurdi facevano 24 foto è finita lì adesso da parte la durata dell'immersione quindi Jacques Cousteau ha detto voi avete il dovere di documentare quello che state vedendo perché altrimenti nessuno potrà mai vederlo capito leggendo le cose che fai sentendo te le raccontare parlando con persone che ti conoscono sembra che c'è un filo rosso in tutte queste cose cioè tu sei appassionato di tante cose e ogni cosa tu la svisceri cioè la vuoi conoscere in maniera approfondita maniacale sono compulsivo ossessivo anche il tennis so dirti tutto dalla racchetta della tennis la composizione la quantità di carbonio di grafite il bilanciamento l'attività passa in secondo piano è più la conoscenza della cosa stessa è più il metodo è un problema dello studio è un problema sono compulsivo ossessivo una patologia diagnosticato quindi vado se adesso tu mi dici come funziona sta cosa questa te la smonto tutta e poi te la rimonto per capire com'è fatta anche quando conosci una cosa che hai sempre avuto da bambino ho costruito l'amplificatore con l'old dash quando ho 13 anni a 13 anni mi sono costruito da solo l'amplificatore del basso e stiamo registrando Decore Podcast siamo a Riverside siamo con Max Gzè perché ti vengo a cercare di battiato per te una scelta Decore? la prima esperienza come artista solista l'ho fatta nel 96 aprendo i concerti di battiato quindi ho fatto una tournée dell'album l'ombrello e la macchina da cuscire e io aprivo i concerti di battiato in quel tour nel 96 e poi da lì è rimasto sempre un bel rapporto con battiato durato tanti anni e per cui questa canzone mi è sempre emozionato però forse una cosa che si sa meno del tuo percorso che magari in Italia è più nota la fase da quando hai iniziato a pubblicare dischi però che tu hai tutto un percorso tuo all'estero con musicisti incredibili che ti ha formato e ti ha reso poi quello che sei diventato cioè eri già uno riconosciuto per essere molto bravo al basso e questo ti ha dato la possibilità di avere a che fare con musicisti incredibili quando sono andato a Bruxelles ho cominciato a frequentare lì la scuola europea ero un bambino ragazzina ho appena preso questo questo basso da discoland a Via Baldo degli Ubaldi e poi lo stesso anno sono andato a vivere a Bruxelles e lì ho cominciato a suonare con tanti musicisti Bruxelles era un po' la capitale il centro della cultura jazz del nord Europa e quindi c'era la cultura delle jam session jam session vuol dire quando dei musicisti si mettono insieme nel locale e suonano insieme capito senza sapere quindi c'era una specie di libro che si chiama Real Book con tutti i brani con gli accordi le griglie degli accordi dice ok suoniamo All The Things You Are che è una delle cose belle che ho richiesto e ricordo appunto il fatto che quando suonavo in queste jam session c'erano spesso venivano i musicisti da Parigi i musicisti di Miriam Makeba e c'era un bassista il bassista appunto di Miriam Makeba africano della costa d'Avorio e lui mi ha insegnato la percezione delle note del basso il movimento all'interno di ogni mondo musicale cioè la musica è fatta di di movimento adesso è tutta un po' appiattita dal BPM dal click e dalla quantizzazione ma se non c'è movimento nella musica è morta è piatta se tu metti un percussionista africano e lo metti a suonare con un percussionista brasiliano flemmano vanno fuori tempo insieme perché ognuno c'è il suo movimento perché la natura in cui nascono questi ritmi è diversa la foresta ammazzonica è diversa dalla giungla africana facendo un esempio così per cui essendo la musica un tentativo dell'uomo di imitare i suoni della natura come archetipo appunto alla fine questa cosa qua quindi la per sentire il movimento devi muoverti noi a Decore diciamo sempre cos'è Decore sono quelle cose che ti smuovono quelle cose che ti danno un'emozione forte un ricordo una sensazione che prescinde dal ragionamento prescinde da qualcosa che è contemplato ragionato organizzato Decore è nascossa e c'è un aspetto della musica che si lega anche a quello che dicevi adesso che è un aspetto che percepiscono le cellule prima dell'orecchio prima dell'ascolto prima del ragionamento come archetipo come il simbolo comunica a livello organico oltre ogni interpretazione se un bambino di un anno balla ascoltando della musica non è perché qualcuno gli ha insegnato a ballare perché naturalmente sono le sue cellule che ballano quindi è un messaggio diretto che bypassa ogni interpretazione è qualcosa che arriva direttamente cioè il simbolo comunica a livello organico oltre ogni interpretazione culturale di quel simbolo questo è un po' un mistero di tutto ciò che viviamo che viviamo a livello organico ma non abbiamo consapevolezza la percezione della musica è del cuore quello che mi insegnava il bassista di Miriam Makeba è proprio quello di lasciar fluire le cose e non pensare a quello che devi suonare ma lasciarti muovere insieme a quello che sta accadendo quindi lasciarti accadere insieme a quel movimento lì quindi non devi interpretare quella cosa la devi solamente vivere è questo che suonare con il cuore suonare con la testa molti musicisti suonano con la testa e molti suonano e molti suonano di cuore dopo dopo sto concetto come faccio a fare questa domanda capito a proposito di oggetti tutti quanti noi a casa abbiamo davanti la porta di casa abbiamo un porta oggetti o un cassetto porta oggetti dove dentro ci sono un'infinità di cose inutili che stanno lì da una vita sono oggetti pre morte rimandano lì anche dopo che sei morto a casa tua nel tuo cassetto porta oggetti che c'è quello che quando tiri fuori io l'altro giorno l'ho aperto e c'era dentro un dollaro che cazzo sta fa qua un dollaro nel tuo porta oggetti sono gli oggetti che uno mette sul cammino che sono lì adesso sul cammino e rimarranno lì anche dopo che sarò morto che rimarranno lì che non li usi la nostra vita la nostra vita è circondata di un'infinità di oggetti ma nessuno di questi oggetti è di vitale importanza questo è il concetto il fatto che questi oggetti non servono o servono anche per esempio tutti i premi che ho preso le macchine poi posso più premi facendo regare con le macchine e altro piuttosto che con la musica il fatto sta che tutti questi oggetti li tengo buttati li butto non c'hai un no diciamo c'ho solo il Davide Donatello che sta sul cammino però quello ma perché mi piaceva perché dava colore abbiamo sentito due i tuoi brani decore in questa attesa uno era Nipolis Roxanne su uno dei brani quando dicevo appunto quali sono le canzoni che ti hanno ispirato a suonare il basso senz'altro tutti i brani che avevano lo strumento del basso come contrapunto quindi che non erano insieme all'accordo di pianoforte quindi dove il basso faceva una linea la chitarra un'altra linea e che ne so in quel caso erano tre quindi la batteria non faceva linee però quindi dove c'era un contrapunto ogni strumento fa una cosa a sé stante e gli accordi si incrociano quindi si nel punto di intersessione di queste linee si crea l'accordo quindi questo è un po' è la base della musica sinfonica le quattro voci insomma dell'orchestra quindi è tutta basata sul contrapunto quindi l'orchestra sinfonica e in qualche modo tutti i gruppi che usavano il basso non necessariamente per sottolineare la fondamentale nota dell'accordo sono quelli che mi hanno fatto scoprire la bellezza di questo strumento quindi la musica scala musica reggae e altre musiche insomma anche quelle africane l'hai mai conosciuto Sting? si l'ho conosciuto ho aperto anche un paio dei suoi concerti com'è stato l'impatto nel senso immagino che per te era una figura un po' soprattutto perché ti ispirò all'inizio mi hai detto grande bassista nel senso ha fatto effetto conoscerlo ho fatto un concerto qualche anno fa ormai ero allo stadio Flaminio e stavo con mio figlio piccolo gli ho insegnato a fare Give Me Five e poi siamo stati lui c'è un camerino con tutte le cose fai yoga siamo stati là abbiamo chiacchierato un po' e si è messo molto carino lui si è messo lì ascoltare il concerto che abbiamo fatto in versione acustica poi ho avuto anche una band ho suonato con Stuart Copeland una band si chiama Gizmo quindi conosco conosco bene Stuart e con Copeland abbiamo fatto questa band dove appunto facevamo tutto si chiama Gizmo che era vuol dire Mark Ingegno meccanismo ecco ed era un po' una bella band fatta di vari musicisti prima parlavamo dell'esperienza cinematografica e del film Basilicata Cost to Cost ci puoi raccontare quell'esperienza? si beh quello è stato un film molto sentito perché durante quel viaggio quelle riprese in realtà noi stavamo vivendo quella cosa lì quindi non è stata una costruzione artificiale era veramente come fosse un documentario di quello che stava realmente voi l'avete fatto davvero diciamo cost to cost si siamo partiti della Maratea siamo partiti abbiamo cominciato a fare le riprese con questo carretto con questa cosa poi chiaramente dormivamo negli alberghi però ogni giorno ci spostavamo per fare delle riprese che sono stati un mese in Basilicata siamo partiti lì da Maratea e siamo arrivati a Scansano Ionico facendo le varie riprese durante il tragitto ma devo dire Rocco è stato bravissimo a in quel film a a come dire a a tirar fuori l'anima di quella che era la sintonia che si era creata su quel set cinematografico e non è una cosa scontata perché spesso i set cinematografici sono pieni di intoppi di 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 problematiche e lì è stato veramente un'esperienza bellissima armoniosa eravamo tutti in sintonia poi è diventato un film cult dicevamo che ho visto anche delle dei tour operator che rifanno paro paro diciamo l'itinerario il tragitto del film nessuno si aspettava un bel film semplice indubbiamente un bel sapore ogni tanto mi capita di rivederlo perché lo ritrasmettono su Sky e ogni tanto lo riguardo e con occhio esterno cerco di vederlo è tutto bello c'è l'ambiente l'atmosfera la situazione l'ironia è così è un bel film è un film fortunato Basilicata Coast to Coast dico al di là del fatto che ho recitato un ruolo particolare e sempre restando in ambito cinematografico ti abbiamo chiesto due film decore e tu ci hai portato oltre il giardino eh oltretutto oltre il giardino che recita Peter Sellers che fa un ruolo interpreta un ruolo si chiama Chance Giardiniere è stato l'ultimo film di Peter Sellers di regia di Al Hashbi e che si chiama in titolo eh lingua regionale Being There Essere Lì lui era il giardiniere di questa eh donna ricca a un certo punto questa donna muore e lui si ritrova totalmente decontestualizzato in un mondo è un film molto bello e quando ho interpretato Basilicata Coast to Coast in realtà mi sono ispirato molto al personaggio di Chance Giardiniere e poi hai portato Non ci resta che piangere un film italiano di eh ah sì tutt'altro registro di quei film magici dove ci sono vedi nelle scelte che ho fatto anche dei brani dei libri che ho messo varie varie cose mischiate mi piace anche una cosa non significa che tu devi tendere verso quella cosa esistono le montagne perché ci sono le vallate senza vallate non possono esserci le montagne certo per cui è bello vedere un film totalmente impegnato è bello vedere un film classico un'icona una come dire parlavamo anche di Frankenstein Junior no? io dico Fraubruch tutti quanti fanno eh è normale capito? capito? Lupo Luli sono dei classici quindi quanti siete? chi siete? dove andate? è diventato capito? quindi è un film è pazzesco quel film è pazzesco quel film è bellissimo quando fai zapping ti capita di vedere quel film non cambi canale rimani a guardarlo perché è così sono dei film che sono rimangono dei classici e delle cose che rivedi anche cento volte perché vuoi aspettare che arrivi la scena di vitellozzo capito? vuoi aspettare che arriva la scena cioè ci sono delle cose bellissime in quel film non c'è un momento noioso è un'opera d'arte quel film un'opera d'arte un capolavoro e possono essere decore come dicevi giustamente te cose molto diverse tra loro con registri diversi parlavamo a cena del fatto ti ho fatto questa domanda che rapporto hai tu con i tuoi vecchi brani quelli che magari sono dei tormentoni che tutti conoscono la tua scrittura pure è evoluta è cambiata hai esplorato tantissime forme sembra anche che c'è anche un impegno di scrittura che man mano ti ha portato in registri diversi ed è cambiato certo certo molto spesso ci capita di avere ospiti che magari rinnegano delle cose fatte in precedenza che magari sono state anche di dominio pubblico molto forti invece tu ci hai detto che ti vivi tutto bene ti piace sono cose in cui ti riconosci quando le suoni ai concerti sei contento certo ogni cosa è figlia del suo tempo perché entrare in contrasto con qualcosa che uno ha fatto c'è esiste un processo organico come dire la ionizzazione della materia che fa sì che le cose invecchiano quindi le cose cambiano forse il tempo che non cambia ma esiste il cambiamento forse il cambiamento esiste e accade in un luogo chiamato tempo quindi non è il tempo che cambia ma sono le cose che cambiano nel tempo è la coscienza che si muove nel tempo fatto sta che la cosa che ho fatto dieci anni fa vent'anni fa fa parte di quel tempo di quel momento è come se io prendo un un vinile e metto la testina faccio un needle drop e la faccio cadere in un punto del tempo tac ma fa parte dello stesso vinile perché devo rinnegare un solco rispetto a un altro faccio una delle delle mie domande interessantissime dai ma secondo te perché quando entriamo in un bar cioè il barista che ci descrive tutti i cornetti ci dice questa è la crema questa è la marmellata questo è il cioccolato perché su quello vegano solo su quello vegano c'è il cartellino secondo te cioè non so se ci hai mai fatto caso per questa cosa perché quello vegano è sempre un po' sfigato cioè capito sta lì o sta di trovare nell'ampolla da solo capito si si è un po' discriminato mangi vegano tu cioè assaggi cibo vegano si no l'assaggio si è sensato no ma diciamo ho provato un periodo a non mangiare più carne ad essere vegetariano non vegano no perché è un processo che implica un tempo insomma non è che puoi decidere da un giorno all'altro no certo non puoi farlo però puoi passare puoi cominciare a non mangiare carne per un po' e poi da lì puoi decidere se diventare vegano però io ho provato visto che siamo andati a cena insieme hai riniziato ho mangiato il maialino si ho iniziato a mangiare no ma ci ho provato onestamente ci ho provato il problema è che è difficile bisogna farlo in un momento in cui uno è pronto l'ho fatto mentre stavi in un tournée e non ce la fai perché comunque non puoi controllare concentrarti e allora avrei dovuto ricominciare a fine tournée a non mangiare più però ci vuole tanto sforzo perché se sei abituato a ingerire quel tipo di proteine quando poi vengono devi in qualche modo non sono un nutrizionista non so come funziona potresti diventarlo però no studiare nel senso te manca io non me lo farei mancare beh diciamo diciamo la cucina mi intriga al concetto anche di sostituire le proteine animali con quelle vegetali quindi conosco la carne stampata 3d è qualcosa che un po' no quella fa cagare quella cosa comunque per esempio la fitoterapia sono un esperto di fitoterapia conosco ogni cosa perché sono andato in fissa anche con quella per cui conosco bene la fitoterapia ma chi è che non è un esperto di fitoterapia chi è che non è un esperto di fitoterapia sì però veramente principi la fitoterapia è la combinazione di più elementi quindi non è solamente la vitamina C la D capito ma salto un po' di palo in frasca visto che veniamo è appena finito Sanremo quando abbiamo registrato questa puntata questo è il palo o la frasca che rapporto hai tu con Sanremo visto che hai partecipato diverse volte il festival di Sanremo è cambiato molto negli anni mi è cambiato molto il primo Sanremo l'ho fatto nel 97 con Sanremo Giovani ho portato Cara Valentina e sono arrivato mi sembra penultimo poi sono andato a fare Sanremo nel 99 con una musica può fare poi nel 2000 poi sono andato nel 2008 con il solito sesso nel 2013 con sotto casa nel 2017 con la leggenda del cristal del pizzo munno e poi nel 2021 20 l'anno del covid l'anno del covid l'anno del covid infatti che non c'era il pubblico quando vinsero i Maneskin perché uno l'ultimo no l'anno dopo hanno vinto i Maneskin Deodato ha vinto nel 2020 hanno vinto i Maneskin i Maneskin ma tu forse nel 2020 nel 2020 c'era il pubblico e quello che ha vinto Diodato nel 2021 hanno vinto i Maneskin e hanno vinto i Maneskin e io ho fatto la canzone il farmacista e proprio in quel periodo forse non era però oltretutto il farmacista è un brano se mi hanno fatto apposta però l'ho scritto 5 anni prima del covid quindi non c'entra niente in quel periodo il farmacista c'aveva un sacco di soldi trifloperazina, stramonia e pindololo e un pizzico di seco barbital poi capito parla tutti i principi attivi dei farmaci però a proposito di fitoterapia uno va a leggere il testo del farmacista è un testo molto divertente e visto che hai partecipato a tutti quei Sanremo con il pubblico com'è stato farlo senza? l'ultima sera mi sono buttato sulle sedie vuote travestito da superman ah si 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 ho cantato ogni sera ero vestito in maniera diversa la prima sera ho cantato questa pièce teatrale però purtroppo c'è stato un problema con la regia video e avevo portato la prima sera ero vestito da Leonardo da Vinci come no certo però problema che non avendo potuto fare le prove però non sempre via del covid quindi il regista non aveva capito che c'erano le sagome i cartonati doveva portare una stedicam e muoversi per fare tutto il movimento invece c'è stata un'immagine fissa che non ha dato giustizia a quella performance non per colpa di nessuno ma per colpa solamente del fatto che non abbiamo fatto abbastanza prove quando poi ho chiesto ma scusate questa inquadratura statica siccome il giorno dopo mi sono vestito da Salvatore da lì volevo cantare facendo certe cose però ormai quella era l'impostazione quando sai quando metti save quella è la performance di Gazzè deve essere quella per cui cosa ho fatto mi sono adattato io e la seconda sera ho cantato vestito da Salvatore da lì seduto su una sedia con le gambe accavallate e poi l'ultima sera il sabato mi sono vestito normale con la giacca e cravatta capelli bello sbarbato così in realtà non ero Max Gazzè ma ero Clark Kent perché a fine performance ho tirato fuori la camicia e c'era Superman e mi sono buttato sulle sedie e quindi ovviamente mi sono buttato apposta però i giornali per poter in qualche modo far polemica no far polemica colorire un po' il fatto Gazzè cade dal palco inciampa tracolla rovinosa caduta di Gazzè sulle sedie dell'Ariston in realtà mi sono buttato capito? però è stato così un gesto divertente che in qualche modo faceva parte di quella del era pure lì un'interpretazione teatrale prima sera da Vinci poi da lì poi Superman quindi però in quel contesto era un po' sfigato quel Sanremo capito? non c'era il sostegno del pubblico non c'era una partecipazione evidentemente al di là della mia necessità non volevo avere niente a che fare con le classifiche di Sanremo però anche la canzone evidentemente non è stata capita e apprezzata come speravo non è andata come dove però il rapporto con Sanremo è stato sempre positivo nel senso che ho sempre avuto delle belle esperienze nel Sanremo l'ho vissuto con grande serenità non ho subito mai nulla nello stare a Sanremo ma mi sono divertito nello starci senti stiamo andando verso la parte finale del podcast e abbiamo degli appuntamenti fissi delle domande fisse prima Danilo ha accennato all'argomento cucina parlando dei cornetti del bar tu sei uno che cucina? si ce l'hai una ricetta di core che quando vengono gli amici oppure alla tua compagna ci motte faccio il mio cavallo di battaglia beh guarda io ho passato anni a cucinare la carbonara ai miei amici inglesi ci avrei come nemmeno tre stelle tipo ci avrei sei tu capisci come fanno io ho preso tre stelle nel senso che ti hanno dato i copertoni ascolta un attimo ma lo sai come fanno la carbonara in Inghilterra? la cipolla sicuro no è una cosa non si può quindi la mia mission era quella di insegnare agli inglesi a fare la carbonara per cui mi sono specializzato nella manualità tecnica della carbonara perché la carbonara non è solo gli ingredienti eh no certo ci vuole ci vuole ci vuole ci vuole procedimenti procedimenti che se non li fai esattamente c'è la carbonara quella giusta quella che si mangia alla trattoria qua dietro sì sì quella quella fanno giusta lì come la carbona è giusta è giusta è quella la carbonara la carbonara giusta ha dei procedimenti quindi se devo dire un piatto che a me piace sempre non mi stancherò mai di cucinare è la carbonara è il modo in cui quindi sono le dosi giuste quando viene giusta mi dà una gran soddisfazione due o tre cose nel fare la carbonara che determinano il fatto che sia giusta cioè c'è qualche trucchetto qualche cosa un numero di uova specifico per il numero di ospiti la cottura della pasta la salatura sì allora è chiaro che c'è il concetto di base che devi avere un uovo per ogni persona più uno per il piatto no? questo è di base almeno io seguo quella filosofia la quindi ovviamente il guanciale e poi il problema è quello a Bruxelles a pancetta tesa va bene lo stesso beh sempre pancetta tesa quella si trova a Bruxelles però insomma lì è la parte finale quando devi mischiare tutto quindi mentre si versa bisogna mettere una questione pure di temperature quindi lì non deve sono questioni di secondi che viene troppo liquido troppo cotta insomma ci vuole l'occhio ci vuole sì deve stare sul pezzo come dire prima dicevi che nell'ultima serata di quel Sanremo ti sei aperto la camicia e sei diventato Superman hai mai pensato se tu potessi scegliere un super potere quale vorresti? ah un super potere già ce l'hai tutti a occhio e croce c'è i super poteri per come è sempre evidente questo probabilmente sarebbe bello guarda data la mia passione per la fotografia subacquea mi farebbe sarebbe bello come super potere poter respirare sott'acqua le branchie beh bello si capito anziché volare in aria che parti gli uccelli non vedi niente un merluzzo praticamente un merluzzo una cernia una cernia che un po' più però ecco sarebbe bello come super potere diventare no l'uomo di Atlantide vi ricordate il telefilm? sì 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 l'uomo di Atlantide aveva le branchie lui anche l'uomo palude aveva le branchie mi sembra ma quello è un film horror qual'era? mostro della palude mostro della palude esatto era capricciante quel film però è bello perché questo super potere non ce l'ha ancora detto nessuno è diciamo calato su una tua passione però poi se hai le branchie ci sarà un fotografo subacqueo che viene a fotografare a te capito? che pesce sei? e ti mette una mano in testa come con gli squali che ci passa da sta parte quella tecnica che tu hai insegnato e comunque potresti fare mi travesto da squalo potresti fare un remake tipo l'uomo che sussurrava agli squali potrebbe l'uomo di Atlantide allora prima di tutto vogliamo ringraziare voi che siete venuti qua stasera numerosi a seguire il podcast grazie vi invitiamo a seguire il podcast su tutti i nostri canali su Spotify su YouTube mettere segui campanelle chi più ne ha più ne metta eccetera eccetera e continuare a seguire le serate vogliamo ringraziare il Riverside che ci ospita e tutti i ragazzi che ci lavorano vogliamo ringraziare i tecnici di questa serata Marco De Tommasi e Matteo Pieravanti voglio ringraziare Danilo da Fiumicino grazie grazie a tutti Alessandro Pieravanti e soprattutto un grande applauso a Max Gazzè che si è prestato grazie noi ti facciamo l'ultima domanda con cui concludiamo sempre il podcast dopo la domanda mettiamo il tuo ultimo brano decore e se ne andiamo tutti a letto va bene che sei fatta una certa noi prendiamo spunto dalla favola di Peter Pan anzi dal racconto di Peter Pan in cui i pensieri felici servono a staccarsi da terra e a raggiungere l'isola che non c'è che è un luogo diciamo più quasi legato a come uno sta più che essere un luogo concreto certo e quindi è una cosa estremamente è un'isola è un'isola esatto è una cosa estremamente decore per noi perché si raggiunge uno stato che è uno stato di grazia uno stato di astrazione da tutto quello che ci succede certo e il tramite per fare questa cosa sono i pensieri felici cioè un qualcosa che ci mette certo e noi vorremmo sapere da te qual è il tuo pensiero felice quello che ti porta in questo contesto su quest'isola è proprio quello il fatto è un fatto la felicità è qualche cosa come dire secondo me è la serenità al di là di tutto accettare le cose come sono e non entrare in contrasto con il cambiamento con ciò che cambia quindi fluire in maniera armoniosa con il cambiamento questo forse può essere la chiave diciamo per arrivare a un certo stato di serenità che a livello morfo genetico influenza l'esterno e automaticamente l'esterno ti risponde producendo armonia e serenità e quindi questo possiamo definire quindi è noi siamo lo specchio di quello che ci circonda ne parlavano gli esseni c'è un bellissimo scritto nel rotolo di Isaia i sette specchi esseni e comunque è uno stato della coscienza che quindi noi siamo creatori di quello che ci sta intorno se noi viviamo con pensieri positivi pensieri armoniosi e fluiamo insieme al procedere di ciò che accade in maniera armoniosa ciò che sta intorno a noi risponderà con la stessa lingua se noi viviamo sempre in contrasto in polemica in sofferenza ogni contrasto crea sofferenza se vado in contrasto automaticamente l'esterno entrerà in contrasto con noi per cui noi siamo creatori del nostro mondo e questo è l'aspetto più mistico siamo degli esseri creativi e divini grazie Max grazie grazie una produzione DOPCAST usci al 100% usci all'invita ma